Un vasto anticiclone centrato sulla penisola scandinava tenderà ad estendersi sull'Europa centrale e sull'Italia centro-settentrionale, garantendo anche sulla Toscana condizioni di bel tempo. Martedì 26 settembre in Toscana, cielo sereno poco nuvoloso in mattinata salvo addensamenti sui settori orientali, nuvolosità variabile nel pomeriggio, possibilità di locali piogge su Valtiberina e Casentino, generale rasserenamento in serata, venti deboli, mari poco mossi, temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Cielo sereno poco nuvoloso su tutta la provincia di Lucca, nella piana temperatura minima prevista 11, massima 24 gradi. A Castelnuovo e zone montane minima 7, massima 25, a Via Reggio in Versiglia minima 14, massima 21 gradi.